E restiamo a Catanzaro parlando di politica perché il Movimento 5 Stelle ha scelto le primarie per individuare il candidato a sindaco delle comunali di Primavera tra 5 aspiranti. Sono stati presentati oggi in una conferenza stampa in municipio. Per noi c'era Antonio Liotta. Nessun click, nessuna votazione online. Saranno le primarie aperte a tutti i cittadini catanzaresi a scegliere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Un passo storico, secondo gli attivisti della meetup del capoluogo, la prima volta che in città si utilizza questo strumento democratico. 5 gli aspiranti alla carica, individuati attraverso una votazione interna da 97 a 20 diritto, cioè da coloro che hanno partecipato ai tavoli di lavoro iniziati a novembre per scrivere dal basso il programma elettorale. Sono Luana Tassone, Bianca Laura Granato, Ania Poddeguorna, Umberto Catanzariti e Giuseppe Longo. Cittadini come tanti hanno spiegato nel corso di una conferenza stampa ma che hanno deciso di metterci la faccia. Parole chiave, trasparenza, no alla vecchia politica e alle logiche della clientela, sì a un nuovo modo di gestire la cosa pubblica per frenare innanzitutto la fuga di cervelli. Il percorso prevede a partire dalla prossima settimana un tour in camper nei vari quartieri per presentare 5 candidati a sindaco e raccogliere le istanze dei cittadini. A seguire, probabilmente nel secondo weekend di marzo, l'appuntamento con le primarie. Saranno allestiti due seggi fissi, uno nel centro storico e uno nel quartiere Marinaro per favorire la massima partecipazione. E una volta individuato il candidato, la documentazione sarà trasmessa al Movimento 5 Stelle per chiedere la certificazione della lista.